xiao niu quale cantante in cina si chiamerà xiao niu scopriamolo insieme in questo video ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente un nuovo video con gente a caso ci siamo fatti un bicchierino prima ma va bene così oggi sono con Gio l'amore mio della vita ciao che è cinese nato cinese we have Regina which is americana ciao grazie con Regina piacere che cosa hai fatto? buongiorno e lui è coreano perché abbiamo tanti diversi paesi oggi perché facciamo un altro dei video in cui facciamo vedere la differenza di pronuncia e oggi in particolare la differenza di pronuncia dei cantanti perché ci sono un sacco di cantanti che tu italiano a casa mispronunci mispronunci direi di incominciare perché c'è una lista dei cantanti infiniti impariamo insieme le pronunce varie giuste gustose gustose direi di incominciare prima con i cantanti americani così Gina ci sperporerà la giusta pronuncia di incominciare con la nonna la nonna Taylor Swift! Taylor Swift! Taylor Swift May May Why? Why May May? I don't know It's so cute Laura Pausini Laura Pausini Laura Pausini No Laura, Laura No no Laura Ma mi stai insegnando la pronuncia tu, ma è italiano il nome? Cinese vai Laura Pausini Pausini? Pausini? Laura Pausini I love you Laura Pausini Sai 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 Si lo so Sai Sai Si lo so Sai come si dice Sai in coreano Sai Ah si c'è stai Sai Sai Oh Proprio sai Mi hao Shuu Muomm Ahahahahahahahahaha Qu'è il nostro sito? D'accordo Brunomars Mi sono fratelli italiano con me Brunomars Ah, il signo è U Brunomars Brunomais L o R No L Brunomais Ho xing Marte 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 L'icona della mia infanzia è quella che mi ha reso quello che sono oggi Britney Spears Britney Spears Basta che la reso Ma io ho una intonazione diversa come dice la sua nome Britney Spears Britney Spears C'è un po' di Britney Spears Inoltre Britney Britney Ah Britney Tiantian sweet Tiantian sweet Tiantian sweet Tiantian burain Andiamo invece al king italiano all'estero che è Tiziano Perro Aspetta una volta Tiziano perro Tiziano perro Tiziano perro Tiziano perro Vai Aberta atisfied Reserva Tiziano perro Mi piace tutto in cinese, devo dire la verità, dici, ah no, fai, no, fai, no, fai, no. E quelli che stanno spopolando di più al momento, che ci fanno sbavare con la bavetta per terra e poi la... I gritti esse! Armi, ascoltate! La pronuncia corretta, vai! So, so, nyan, tan, tan. Oh, good! Good, so, so, left. Let's just say BTS. Fong dann shangnyan toan. No! No, 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 no. Second, 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 second. Wow! La queen, la queen della palabras, che è Beyoncé. Beyoncé. Oh, is it Beyoncé? ok 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 momento momento perché tanti miei amici dicono Beyoncé it's Beyoncé but it's Beyoncé not Beyoncé Beyoncé see in Korean they say Beyoncé but Beyoncé I think you're wrong because we're like two and one rude wait 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 we have Bey over there she wants to say her opinion spagnol Beyoncé wow Beyoncé 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 non potete cambiare il nome di Beyoncé la regina anche la Cina lo ammette bravi scendete bravi bravi Beyoncé ora l'amico di Will che l'ha cresciuto voi se mi seguite da un po' sapete che Will e lui sono best friend forever oooooooo oooooooo it looks exactly like him yeah you like him? no 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 I like I like you like? what? C'è questo? Mi sono innamorato ma di tuo marito I'm in love with your husband Arianna Grande Però scusate ma Arianna Grande è italiana No, il nome è italiano Quindi non puoi pronunciarlo diverso Arianna Grande è la pronuncia giusta Credo Arianna Grande Why is grande and not grandi? Why is it Versace and not Versace But grande is grande and not grandi Yeah, why? Because of America Arianna Grande 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 Ok, dobbiamo fare più G Se viene in korea Grande E in chinesi? Xiongno No, no, in chinesi Xiongno In chinesi non dote mai Quindi dire grazie a te Xiongno 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 Blackpink Xiongno 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 Blackpink Xiongno Blackpink But Chinese different? Just Blackpink Italia? Brrraatatpink 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 Go Like a birdie No No What the hell? You've been deleted You've been Deleted Cut Cut Gina I don't think you're worth To say Queen Nicki Minaj's name So get out of this Get out of this shit How do you say Nicki Minaj? What's good y'all? What's good? If you come for me I'm gonna get you Because I'm happy Nicki Minaj I say Nicki Minaj I say Nicki Minaj No one says Nicki Minaj Nicki Minaj Nicki Minaj Nicki Minaj Nicki? Nicki Nicki? Why is Nicki Nicki? Nicki Nicki? Nicki Nicki Like a virgin Nicki Minaj 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 Why do you guys do Minaj? I'm done with you I'm done with you Yeah It's Nicki Minaj Nicki Minaj Bye Malaji Well no it's over Okay Spicy chicken Spicy chicken Spicy chicken E questo è tutto per questo video Grazie agli amici per avermi aiutato Siete sempre dolcerimi Vi lascio tutti i link dei loro Instagram, Youtube Qui c'è gente che fa Youtube Qui c'è gente che fa Instagram Qui c'è gente che fa un cazzo tipo me E comunque li trovate tutti qua sotto Fatemi sapere Non fatemi sapere Ditemi consigli Per i prossimi cantanti Che volete Sentiti nelle altre lingue lucide Nel prossimo video Pizza Gosto Gosto Pond Amp man Grazie a tutti.